Le avvisaglie si erano avute già pochi giorni dopo la loro posa all'inizio dell'estate scorsa. Qualche serata all'aperto, il soleone e qualche temporale estivo avevano già scolorito diverse parti delle contestatissime panchine di piazza Volta, da più di uno ritenute d'aspetto vagamente lugubre. Ai tempi però, dal comune di Cono erano giunte rassicurazioni doppie. Da un lato sul fatto che la perdita di colore visibile ad occhio nudo era legata semplicemente al naturale assestamento dei materiali e dall'altro l'amministrazione promise che in caso di problemi comprovati non avrebbe esitato a fare la voce grossa con progettista e fornitori. Ebbene, arrivati a metà ottobre, sembra si sia un passo dai problemi comprovati. Al termine della prima vera settimana d'autunno, con le piogge cadute in abbondanza, le sedute delle panchine al centro della piazza appena rifatta hanno un aspetto veramente poco piacevole. Intere parti di vernice sono sparite del tutto, l'acqua per aver intriso il legno della copertura e l'immagine delle panchine nel loro complesso non sembra rispecchiare le poche settimane di vita. Fin qui però sarebbe soltanto l'ennesima documentazione di un dettaglio tra i diversi che continuano ancora a far discutere sull'assetto finale della piazza. La novità però c'è e quando sarà ufficializzata rischia di fare molto rumore. Negli uffici di Palazzo Cernezzi la situazione è infatti monitorata con un misto di preoccupazione e rabbia perché anche lì un tale deperimento dei materiali non viene ritenuto normale. E c'è di più, come già accaduto nelle scorse settimane, si profila una nuova convocazione dei progettisti per chiedere conto della situazione e se le argomentazioni non saranno convincenti questa volta il Comune è pronto a passare alle vie legali per chiedere l'immediato ripristino delle panchine.